Dopo la conclusione della partita di Oltramani, si è riuscita come una teoria di controllo e di segno, in qualche breve tempo anche con alcuni giorni, il ristorante non mescola con il gusto, dove la sera c'è il spettacolo di danza del vetro in cima della torre, ed è molto panoramico perché già un balcone a 360 gradi può girare intorno, così si abbia il panorama del cento stoico. Invece sul lato destro avete la moschia di Solumano con quella pombola grande, questo grande opera di architetto Sinai. Andiamo un po' lento perché dobbiamo aspettare il passaggio sopporto.